I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno tratto in arresto un cittadino rumeno di 31 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Nella nottata, i militari della stazione di Montessano sulla Marcellana sono stati allertati da una chiamata al 112 da parte di una donna di nazionalità rumena, 28enne, la quale chiedeva l'intervento urgente dei militari in suo soccorso in seguito a un litigio avvenuto con il proprio compagno. I carabinieri in poco tempo sono arrivati sul posto e sono intervenuti nell'abitazione, trovando l'uomo che, in stato di ubriachezza, aveva percorso la donna provocando le chimosi e condizioni in varie parti del corpo e ricostruendo che, nel corso della serata, vi era stata una colluttazione con l'utilizzo di un coltello alla presenza del figlio minorenne. I militari hanno applicato all'uomo la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari prevista dal decreto sullo femminicidio, ricostruendo episodi di violenza e minacce a lei sin dal 2016, anno d'inizio della convivenza tra i due.